sono le sette sono le sette sette minuti del 20 settembre 2022 li trovo sul mio terreno a strada 43 e vediamo luco dei marzi ad un bel luco dei marzi ingrandisco ed in piccolisco lì sopra c'è monte bello questo qui è monte la ciocca rimbiccolisco e guardiamo luco dei marzi l'intera estensione questa è l'estrema periferia di luco dei marzi sud verso trasacco giriamo piano 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 e ci speriamo ecco qui si ingrandiscono altro poco quello è il campanile eccolo qui sono lontano lì c'è il salvatore del comune il vecchio salvatore del comunico dei marzi ai piedi della montagna la campana e queste santa maria la parte estrema nord del comune sopra questa in fondo sarebbe la parte est il pallone moretto eccolo qui questi pallone moretto ci ha lavorato dell'imposchimento nel 1985 monte la ciocca si prosegue via del monte ma in effetti questa area archeologica da qui ecco qui sopra monte la penna sopra i miei amici qui la chiesa di santa maria e il cimitero luco dei marzi buongiorno a tutti da tommaso pena